Sono deserte le fermate dei bus in Italia, come anche delle metro, al tempo del virus. Spesso i bus viaggiano con un solo passeggero a bordo, mentre i treni non vanno oltre un paio di persone per carrozza. Io lo prendo ogni giorno e trovo che... Dunque, è una cosa buona questa che l'Atac abbia continuato a fare servizio. Però anche una sola persona che ne ha bisogno è giusto che ce l'abbia. Faccio la mattina la prima metro e poi prendo l'autobus normale e vado al lavoro. A servizi dei mezzi pubblici sono soprattutto chi lavora o chi non può farne a meno, cioè non ha un'auto propria o un parente che lo accompagna a destinazione e gli anziani soli che devono fare la spesa o recarsi a fare una visita medica. E tanti immigrati, ovviamente. Mi accompagno a mia zia a ritirare un referto di una radiografia. Soltanto siamo usciti per l'appuntamento che avevamo oggi. Per lei, il busco di giorno? Sì, tutti i giorni non esco, quasi tutti i giorni. Quando c'è da fare un po' di spesa allora esco io. Da quando è scoppiata la pandemia, l'utilizzo dei mezzi pubblici è crollato verticalmente con punti omogenei in tutta Italia del 90% circa, secondo l'app di mobilità urbana e nazionale Movit. La regione più refrattaria è la Campania, che supera addirittura il tetto del 90%. Le due città dove l'uso dei mezzi pubblici è più alto sono Venezia e Genova, dove il 20% dei cittadini continua a usarli.